Se non scarichi OneFootball non saprai le novità, calcio in live ad ogni ora e c'è anche la Serie A. Dai scaricati OneFootball, link in descrizione è, fidati non è uno sbaglio, è la migliore app che c'è. E se ci credi sai che, poi, un posto ora ti aspetto. Ma non avere fretta, l'Europa ora ti aspetta, l'Europa ora ti aspetta. Ho bisogno di vederti, l'Europeo vuoi conquistare. Ci sono state volte, per un mondiale non più distante. Ho bisogno di perdonarti, ti devi qualificare. Ricordi quella notte, quando sei uscito fuori, ma dalla si riparte. Grazie. Grazie.